Chi vincerà il grande fratello VIP 2017? Svelato il nome del favorito del pubblico è tutto pronto per la finalissima del grande fratello VIP, lunedì 4 dicembre su canale 5 sarà trasmessa l'ultima puntata di questa seconda edizione di grandissimo successo seguita da una platea di quasi 6 milioni di spettatori media puntata con uno share del 27-28%. Numeri da capogiro, che sicuramente cresceranno ancora di più in vista del gran finale di lunedì sera, che potrebbe permettere alla rete Amiraglia Mediaset di ottenere super ascolti e addirittura arriva a superare la soglia dei 6 milioni di fedelissimi con il 33-36% di share. Chi sarà il vincitore finale del grande fratello VIP? In attesa del verdetto audite di questa attesissima finale del GF VIP 2017, vediamo un po' cosa dicono i sondaggi riguardanti il nome del possibile vincitore di quest'anno, che si porterà a casa il premio finale di 100.000 euro, i bookmakers in questi oed hanno come favorita assoluta la giovane Giulia Delellis, che nelle quote SNAE a data 1.80. Il motivo di tale pronostico, la Delellis è una delle concorrenti più amate sui social, seguita da milioni di persone, che sicuramente questo lunedì sera si daranno da fare sul web per permetterle di avere al meglio all'rush finale e quindi di trionfare uscendo dalla casa con il titolo di vincitrice assoluta. La bella Giulia, però, potrebbe essere messa in difficoltà da Daniele Bossari, anche lui considerato uno dei favoriti in assoluto di questa seconda edizione, che sembra avere delle buone possibilità di otrionfare. Giulia Delellis favorita per la vittoria finale, per gli spettatori social, che se voi commentano la trasmissione sul web, però, non ci sarebbero dubbi, che anche nel caso in cui dovesse esserci la super sfida finale tra Giulia e Daniele, sarà la Delellis ad avere la meglio. I sondaggi realizzati in queste ore sul Twitter la vedono in assoluto vantaggio rispetto agli altri concorrenti e quindi questo fa ben sperare tutte le bimbe, che la seguono e la sostengono, di sicuro la vincitrice di questa seconda edizione del GF VIP non potrà essere Aida Iespica, la quale in queste ore non è la meno votata in assoluto e anche la meno quotata per la vittoria finale. Un colpo di scena clamoroso, invece, potrebbe essere inflitto da Ivan Amrazova la quale sembra avere ottime possibilità di riuscire ad accedere al video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.